Giunta alla quarta edizione, la Sagra della Ricotta e del Cannolo di Mussomeli è ormai entrata a far parte degli eventi annuali di particolare importanza, visto il successo ottenuto nelle edizioni precedenti. L'evento è organizzato dalla Proloco di Mussomeli, dall'amministrazione comunale e dalla Congregazione di San Pasquale, alla quale aderiscono tra gli altri tutti i pastori di Mussomeli. I pastori, oltre a festeggiare il proprio santo protettore, colgono l'occasione di mostrare e far gustare a quanti lo vorranno il frutto genuino del loro lavoro, di cui sono tanto orgogliosi, la tuma, la ricotta e i cannoli. Per la distribuzione e l'allestimento degli stand, saranno supportati dagli infaticabili soci della Proloco e della Proloco Junior. La Sagra della Ricotta e del Cannolo si svolgerà sabato 4 maggio in Piazza della Repubblica a Mussomeli. Avremo il piacere di ospitare un grande artista. Alessandro Gandolfo e il suo spettacolo di cabaret, imitazioni e musica. Domenica 5 maggio, colazione con ricotta e siero e distribuzione dei cannoli. Inoltre, potrete visitare lo splendido castello Chiaramontano, il nostro museo archeologico e le bellezze naturalistiche del centro storico. Per info, potete contattare la Proloco di Mussomeli al numero 0934 68 22 21. Sagra della Ricotta e del Cannolo, vi aspettiamo!